bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi voglio parlare insieme a voi dei metodi più veloci per portarci a casa le sfide di questa settimana numero uno della stagione 6 di fortnite delle sfide abbastanza particolari ce ne sono alcune che non abbiamo mai visto e ce ne sono altre che invece richiedono un pochettino più di impegno per essere completate vi ricordo ragazzi se ancora non l'avete fatto di lasciare un bel like se vi sta piacendo questo video e mi raccomando di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda fortnite ma molto velocemente ragazzi andiamo subito alla sfida numero uno che è quella che ci chiede di raccogliere tre armi leggendarie in tre diverse partite sembrerebbe una banalità vista così ma io vi consiglio comunque ragazzi di fare questa sfida o nelle 50 versus 50 quindi arrivando poi verso la fine c'è più probabilità che troviate il vostro la vostra arma che vi interessa ma vi do un'altra dritta ragazzi forse non lo sapete ma le armi che prendete nella lobby vengono contate quindi potreste tranquillamente andare in lobby cercare velocemente un'arma leggendaria prenderla e atterrare nel mare una volta che parte il match in questo modo lo potete ripetere e molto velocemente senza stare a disperarvi nei chest troverete e completerete la prima sfida andiamo avanti ragazzi nella seconda sfida quella che invece è divisa in tre fasi la fase numero uno ragazzi ci chiede di aprire tre chest e fin qua niente di strano possiamo atterrare in una città un pochettino più lontana dalla traiettoria del bus e quindi senza problemi aprirci i nostri tre chest la sfida la fase numero due ci chiede invece di aprire due e il drop questo invece può essere un pochettino più impegnativa come cosa da fare io vi consiglio sempre di portare questa sfida nella 50 versus 50 in questo modo se voi quando vi buttate dal paracadute dalla dal pullman andate direttamente nel cerchio centrale basta solo che state un attimo diciamo in allerta che non ci siano i nemici e ricordatevi che dopo otto minuti da inizio della partita vengono generati il primo grappolo di airdrop quindi vuol dire che abbastanza semplicemente riuscirete ad aprire due airdrop e quindi a completare la seconda fase ma la fase più delicata ragazzi la più difficile è trovare un lama da aprire qui ragazzi c'è ben poco da dire non esiste proprio una strategia per trovare un lama posso dirvi che se non lo sapete ne vengono droppati tre ad ogni match quindi il mio consiglio ragazzi è quello di concentrarvi una volta che arrivate a fare questa terza fase su le altre missioni andate tranquilli che sicuramente prima o poi un lama lo trovate quindi non preoccupatevi giocate il vostro gioco e vedrete che completerete anche questa sfida molto velocemente ragazzi alla sfida numero 4 quella dove bisogna applicare gli scudi sì vabbè non è che è proprio una roba impossibile nel senso giocate easy fatevi le vostre partite ragazzi come per quello che vi ho detto poco fa giocate normalmente concentratevi sulle altre sfide sicuramente mentre andete avanti nella vostra partita nel giro di due o tre match riuscirete ad applicare tutti gli scudi 500 necessari per completare anche la sfida numero 4 ragazzi andiamo a vedere ragazzi visto che ci siamo la posizione esatta della stella segreta nella prima settimana di questa season 6 come vedete ragazzi ve lo faccio vedere alle mie spalle datemi solo un secondo ecco niente qua c'erano tutte le sfide ma come vedete nella schermata di caricamento della prima settimana si può notare ragazzi che in fondo dove c'è il trattore c'è l'ombra della stella segreta quindi ragazzi dove si trova questo trattore molto semplice molto semplice basta semplicemente andare nella fattoria che è un po più scostata dove c'è palmetto paradisiaco vicino al piccolo recinto troveremo l'avanti il trattore che alla sua sommità ci darà la stella segreta e quindi un livello extra del pass battaglia andiamo avanti ragazzi molto velocemente in un'altra sfida abbastanza semplice niente di strano dove ci chiede di killare eliminare nemici in diversi luoghi indicati niente di strano io vi consiglio sempre ragazzi se avete modo di farlo giocate magari questa sfida in squad fatela quando state giocando in squad se volete magari farvi aiutare dai vostri compagni ma non dovrebbero esserci neanche grossi problemi magari ci metterete solamente un po di più se decidete di farla in solo diciamo che l'importante è che killate un nemico nel luogo che viene indicato e piano piano vi portate a casa anche questa sfida ragazzi ma arriviamo ad una delle sfide anzi alla sfida più difficile per questa settimana ragazzi qual è è quella di danzare sotto i lampioni sparsi nella mappa e quindi voi mi dite xuder ma dove sono questi lampioni come faccio a riconoscerli è molto semplice ragazzi per riconoscere i lampioni che ci interessano sono quelli che hanno le casse bianche appese proprio in alto gli speakers in poche parole quindi andiamo a vedere ragazzi dove si trovano questi lampioni allora il primo ragazzi lo state già intravedendo è a rapide rischiose se ne è proprio uno all'inizio di rapide quindi nessun problema ci bagliamo sotto e via andiamo avanti molto velocemente dobbiamo raggiungere passatempi pomposi dove ne troviamo uno proprio qui ragazzi vicino al parcheggio dietro al country club nel parcheggio dietro al country club vai vai avanti fino a parco pacifico il lampione che sinceramente io non lo avevo mai notato prima di questa sfida si trova proprio là in fondo dove c'è la casa grigia e la casa rossa lì in mezzo c'è il lampione avanti ancora verso il boschetto bisunto dove il lampione invece si trova proprio all'uscita del durburger vicino al negozio di pesca balliamoci lì sotto e andiamo alla grande un altro invece ragazzi ha pinnacoli pendenti per raggiungerlo dobbiamo arrivare vicino al campo da basket e proseguendo un pochettino più in avanti troveremo il lampione che ci interessa quello con gli speaker avanti ancora ne troviamo un altro al campo da calcio a cinque per trovarlo basta semplicemente raggiungere le piscine ragazzi eccolo lì il lampione che ci serve uno lo troviamo anche a corso commercio abbastanza al centro ragazzi vedete siamo comunque una posizione molto rossa chiamiamola così quindi mi raccomando attenzione quando ballate quando scendete se per caso corso commercio si trova sulla traiettoria ce n'è uno anche al benzinaio quello vicino a palmetto paradisiaco vicino alle pompe di benzina e l'ultimo che possiamo trovare invece è nelle fabbriche quelle vicino al laboratorio della latrina andiamo avanti allora ragazzi per vedere l'ultima sfida quella che ci chiede di atterrare in diverse location della mappa anche qui ragazzi niente di strano niente di difficile basta solamente però che vi ricordiate che ci dovete atterrare quindi non vale ragazzi se vi muovete a terra una volta che siete comodi avete tempo decidete di atterrare nelle location che vi vengono indicate in questa sfida e completerete senza problemi tutte le challenge della settimana numero 1 beh ragazzi io spero che questo video vi sia risultato utile per completare le sfide nella maniera più veloce quindi livellare con questo pass battaglia veramente veramente meraviglioso vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video e noi ci vediamo in live ciao ciao